I genitori di una mia cugina che abita a Piudoran hanno questa attività di pesca cioè pescano il pesce e poi lo rivendono anche mi sembra al mercato del pesce di Manila e fortunatamente il mare di Piudoran è molto pescoso Mirca, guarda una foto no, io solo faccio un video questo, Mirca, guarda una foto cosa? oh my god, questo è grande questo è un monso cosa è? sono colorate sono colorate molto colorate ah, bellissimo molto colorate oh è troppo grande oh my god, questo è la mia madre è uno dei pescati 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 i pescati i pescati ho troppo tendenzialmente durante la nostra permanenza ad agosto il mare non era quasi mai bello almeno qui a Piudoran perché vi dicevo che agosto non è affatto il mese ideale per venire in vacanza nelle Filippini la stagione ideale è da dicembre a fine marzo inizio aprile è quando si può trovare il mare bello le condizioni atmosferiche sono sicuramente migliori oggi era l'unico giorno in cui il mare aveva un aspetto più bello, più cristallino questo ovviamente non è un luogo turistico anzi, persino tanti filippini che vivono in questa regione non conoscono questo posto perché è davvero un piccolo villaggio però in generale le Filippine sono conosciute per la bellezza dei luoghi naturali e in particolare dei luoghi marittimi ci sono tantissime spiagge molto belle sparse in tutte le Filippine però le località più famose sono sicuramente Boracay e Palawan e pensate che quest'ultima, in particolare la zona di El Nido è stata proclamata l'isola più bella del mondo cercate su Google se non ci credete avete mai sentito parlare di wakeboarding? io mai fino a che non sono venuto in vacanza nelle Filippine mi trovo ora a Kamsur dove nel 2008 se non sbaglio si sono disputate delle gare di questo sport è come se fosse uno snowboard ma sull'acqua e vi assicuro è straordinariamente difficile dovete infilare i piedi nei supporti afferrare la presa e lasciarvi spingere dal meccanismo ansimavo per il timore ed è più difficile di quanto sembra perché davvero la spinta è molto forte e la velocità che raggiungerete è molto elevata ci sono tante tecniche da tenere in considerazione per non cadere e non farsi male e stare attenti a non fare movimenti troppo bruschi perché potreste accusare un colpo in zone delicate bene anche questo episodio volge il termine per il prossimo episodio sarò sempre qui ma non si tratterà più di wakeboarding ma di provare un divertentissimo parco giochi gonfiabile e galleggiante grazie 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 grazie